Prima di cominciare vi ricordo che per la ricerca delle squadre la valutazione in base alle stelle possedute è stata attuata applicando NO alla voce, condizione live. E ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, bentornati qui sui scatti più scherzi di FIFA, episodio numero 6. Siamo sempre qui a continuare ad andare ad affrontare le nostre sfide con le squadre da mezza stella, siamo al stesso episodio, quindi stessa squadra da mezza stella. Siamo qui con il Derrisili, 7 del campionato irlandese, 58-58-55, questa squadra quindi in difesa fa cagare, anzi con la polizia di live attiva abbiamo anche un caldo di difensori, quindi proprio ci poteva andare meglio. Selezioniamo intanto Derrisili e andiamo a vedere quale sarà la nostra squadra. Allora, ci è rimasto da affrontare un voto di squadra ancora, abbiamo affrontato due squadre inglese, Mercedes-Benz Arsenal, Valencia, Torino e nello scorso episodio il Borussia Dortmund. Possiamo andare ad affrontare ancora miriadi, miriadi di squadre, siamo pronti per andare dentro a scegliere qual è il nostro avversario, quindi andiamo con il generale dei numeri casuali e andiamo a vedere chi è il nostro avversario. Eccoci qui signori, con l'urna contenente tutte le palline numerate pronti per andare a restare quello che sarà il nostro avversario. Andiamo immediatamente dentro con l'estrazione, cominciamo a girare questa urna anche se fa un casino infernale, vediamo un attimo chi sarà il nostro avversario. E infine la pallina, ladies and gentlemen, vediamo un po' chi è il nostro avversario, numero 19, il numero 19 signori. Ok, dunque, andiamo a vedere chi è il numero 19, quindi torniamo al tabellone delle squadre avversari e vediamo un po' chi è, che dovremmo affrontare. Ok signori, dobbiamo affrontare il 19, quindi siamo in prima colonna, andiamo verso il basso. Udilaspalmas, squadra spagnola, ok, e sinceramente non saprei che squadra è, quindi non ci resta che andare dentro per scoprirlo. Quindi Laspalmas, ecco lei, che dovremmo affrontare quest'oggi, quindi andiamo a vedere un po' la squadra in sé. Allora, Spagna, quindi andiamo indietro per di qua, forse è meglio che facevo il giro al contrario. Eccoci qui, Laspalmas, quindi dov'è? Laspalmas, Udilaspalmas, eccola qui. Squadra da 4 stelle, 75, 77, 74, quindi tecnicamente non è una squadra fortissima sulla carta almeno. Potremmo avere forse una chance? Non lo so. Selezioniamo la Spalmas e andiamo dentro con la partita, adesso vi faccio la solida formazione e vedremo un po' cosa riusciamo a creare. Eccoci qua, signori e signori. Laspalmas, Udilaspalmas, spagnola, spagnola. Pronti a cominciare questa inesima partita? Questa volta la formazione utilizziamo è un 4-33 offensivo, che è il loro modulo standard, che insomma è vincolato anche un po' dalla scelta dei giocatori, perché comunque non è che abbiamo una folta rosa con queste squadre, quindi... Mettiamo sempre pressing, che è divertente di mettere magari difensiva. Ok, è passato subito, Patterson! Seconda minuto! Meraviglioso! Ok, sicceramente non me l'aspettavo, io stavo ancora a parlare, va bene. Patterson! Meris e Jason, Patterson, 1-0! Con dei passaggi pulmini, si impida tra le linee, il filtrante è perfetto, la incrocia, la mette lì. Potremmo non può fare nulla, secondo me ragazzi, Udilaspalmas è una squadra molto abbordabile, quindi probabilmente si è andata anche bene all'estrazione. Siamo comunque sempre molto attenti, perché insomma, hanno comunque dei giocatori di alto livello rispetto comunque ai nostri, che comunque potrebbero dimostrarsi una grande sorpresa. Vedi che già guarda, vanno dentro pure questi, e raga... Oh, che cazzo hai fatto? Cosa hai fatto? Gesù! Ma a me non male che ha sbagliato sto testa di merda. Che cosa ha fatto il difensore lì, capisco, 50 euro per terra, se l'hai buttato da TIA. Grani di passaggio, fanno una serie di passaggi del Derrisidi. No, non lo devi alzare così, zio, mannaggia quel porco. Vai così, merda, è morto. No, mi ha inculato Vitolo, Vitolo, mi ha inculato, mi ha inculato, Salta! E mi hanno segnato, mi hanno segnato per un passaggio in strada di merda. Ho detto che non andiamo a stare sugli allorci, siamo un attimo sconcentrati, siamo andati un po', abbiamo segnato al secondo minuto, stiamo a posto. Invece no, cazzo. Il terzino non mi ha... Questo poi stava da solo, regà, questo stava da solo, eh. Questo stava da solo. Eeeh, 11 di un minuto, di nuovo parità, ma le due squadre. Hanno preso, hanno preso molta, molta convinzione perché sono riusciti a fare gol. Ma regà, porco schifo! Ma mi ha distrutto, arbitro! Porco giudo! Dobbiamo farne un altro, ragazzi, per appossargli il morale. Dobbiamo fare un altro, non farcene fare un altro. Che i miei già stanno con il morale molto, perché sono consapevoli di essere degli scarzoni incredibili. Vai così. Ma perché l'hai fatto a pazzà? Non la sanno, sto qua. Non la sapete sto qua, ma veramente. Cacchio, non è patio. Ma che l'hai visto? Prova il tiro! Un tiro di merda! Un tiro di merda! Mette in mezzo! Eeeh, ovviamente, ovviamente. Che? Ah, poi il gioco pure, ovviamente. Vai che l'hai presa! Vai che l'hai presa! Vai che l'hai presa! Madonna, come l'hai fatta a filtra? Fai un respiro! No! No, Patterson! No, io conto su te, Patterson! Cosa è sbagliato? Guarda qui, ti porta a uscita! Era sul primo palo. Era difficile. Dietro ci abbiamo ghicchi righi. Attenzione! Attenzione all'azione! Mamma mia! Calcio d'angolo, signori! Siamo attenti ai saltatori! Comunque che si saltano più di noi! È poco ma sicuro! Vai che l'hai visto! Vai che l'hai visto! Pronti di eserciare! Sei fortunato mentre tirava! Sei fortunato mentre tirava! Ma sei fatto da carta stagnola! De che sei fatto? Come t'hanno fatto? Scusa, eh! Ma come hai fatto? Hai fortunato mentre piti! Ma dai! Ma veramente! Sei fortunato mentre tirava il tossico! Ci hai fatto da carta festa abbagnata! Veramente! No, no, no! Perché? Fai il contrasto porco schifo! Madre, madre santa! Calcio d'angolo! Calcio d'angolo! Attenzione sempre ai saltatori! La palla è andata qui! Il portiere ha rimanacciato! Che culo! Oh, oh, oh! Gliel'avevo levata! Gliel'avevo levata! Dai che gliel'avevo levata! Eh, alpito pure tu stavi in mezzo a chiara però, eh! Però vince il primo tempo, signori! Uno a uno! Sono aperto! Siamo partiti alla grande in questo primo tempo con un gol secco al secondo minuto! Peccato che poi ci siamo fatti recuperare come degli allocchi! Ma siamo pronti per andare a fare il secondo tempo! Guardate la difesa come sta messa a mano! C'è tutte con le peccette rosse che puntano in giù! Attenzione ragazzi! Non facciamoci fare la nostra azione fotocopia di prima che al secondo minuto ci fanno recuperare! Grande! Saltà! Ha saltato ovviamente! Mamma mia! Ma cos'è? Cos'è? Questo passaggio di merda cos'è? Dai, qualcuno che parta per vincere il barco! Vai che l'hai visto! Vai Patterson! Vai Patterson! Vai Patterson! Rigore! Rigore! Dai! Ma dai! Come l'ha salvata! Ma per me guarda che è veramente qualcosa di... Di orribile! Dai ma no! Sei ma coppa al passaggio! Ma Cristo! Guarda quei fighe! Due minuti fanno a contropiede! Sono pure veloci! Vabbè che... Non è che ciò votante! Sei più veloci di noi! Pure Mertesaki che c'ha 27 velocità più veloci di questi tutti questi pezzi insieme! Allarga il gioco! Vi chiediamo un attimo! Appoggio di lì! Ma guarda che ripassaggio rischioso che ha fatto questo! Vai! Vai che l'hai visto! Madolina! Prova il tiro! Puntissimo! Corre però! Corre! Corre! Dai! Salta! E... Domani mattina! Prova il tiro! Prova il tiro! Madonna una volta l'aveva presa incredibile! Dai va bene! Va bene! Prova il tiro! Madonna che una volta la chiappano comunque! È incredibile! Non te lo aspetteresti mai da giocatori del genere! Ma la porta la chiappano! Né il meglio di certi giocatori! Grande! Grande! Vai che stai da solo! Vai in velocità Patterson! In velocità Patterson! Prova il tiro! Ma basta! Questi pali! Prova il tiro! Oddio! 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 Ragazzi veramente! A me non uscirà mai un tiro del genere! Ma se disgraziatamente una volta entra un tiro così! Ma perché? Scaffano tutti! E ovviamente pur sarebbe solo anche fallo lì ovviamente! Perché è ovvio! Remy! La famica del cuore! No vabbè non c'è segreto! All'ottantanuesimo! Ho carizzato da un po' il sogno! No dai! No dai! Con quale colpo di testa imbarazzante? Ho preso pure un palco! Ho preso! Ma dai! Ma dai! Ma dai! Attacco totale! Ultro penso di attacco totale! È tornato lo script degli ultimi minuti! Ci ha messo sei partite ma è tornato! È tornato lo script degli ultimi minuti! Non ci si crede veramente! Lo script che mi ha dato sempre figlio da torcere dalle precedenti edizioni! È tenita! 2 a 1 abbiamo perso all'ottanta ragazzi! E le statistiche voglio vedere! Porco schifo maledetto! Più o meno ci siamo dai! Come statistiche più o meno alla pari! Però ragazzi! Veramente! Veramente! È una cosa orribile! Signori! E niente! E' questo anche il brutto della serie! Il testo di visto non si conclude qui! Vi lascio un like, un commento e un iscrivito se non è ancora fatto! Ci vediamo nel prossimo episodio di squadra di FIFA! E al prossimo video! Ciao a tutti ragazzi! Madonna che cazzo di sfiga! Ciao a tutti!